Siena Il vantaggio al minuto 8 con Pagani Che mette in mezzo per Boccardi Che va a segno Fa 5 in campionato E 1-0 a favore della Robur Robur che si fa ancora pericolosa Con Liga Gallegani che se ne va In serpentina sulla sinistra In trenare di vigore Pensa al destro Poi va sul sinistro Ancora sul destro con Morandi Attento a respingere con i piedi Dall'altra parte la forte Juventus Prova a rispondere Trova anche il gol del pareggio Gol che però viene annullato Per fallo ai danni di Acia Splendida azione dei ragazzi di Magrini Che portano Candido ad entrare in area di rigore Con Morandi che lo stende Calcio di rigore per il Siena Dal dischetto dagli 11 metri Come sempre il solito Elia Gallegani che fa gol E sale a quota 10 Reti personali in campionato 2-0 per il Siena Da buona mattonella ci prova anche Roberto Candido Attento Morandi a volare con i punti E a respingere fuori Alla festa del gol Prova ad unirsi anche Lollo Con il tiro che però non si abbassa E rimane alto sopra la traversa Termina così il primo tempo Con le squadre che vanno A riposo sul punteggio Di 2-0 Dopo due minuti della ripresa Parte bene subito la Fortis Che prova a sfondare dalla sinistra Bravo però Cavallare a permettere A Giusti di intervenire Senza troppi problemi Siena che poi Prova ancora a rendersi Pericolosa con Gallegani La palla che poi Arriva a Boccardi Che con il destro Pensierisce Morandi Che è bravo però A respingere Il Tris arriva poco dopo Con ancora Gallegani Che entra in area di rigore Se ne va un avversario La mette dietro per Agbe Che trova la sua prima marcatura In maglia bianco-nero 3-0 per il Siena Gioco partita incontro Ma la squadra di Magrini Non è mai sazia Candida in buca dentro Per Gallegani In posizione regolare Bravo a saltare Morandi Poi Portiere torna in porta Allora Gallegani Che sterza Palla che arriva nei piedi Di Boccardi Che fa 4-0 per la Robio Doppietta per l'attaccante bianco-nero E sesto gol in campionato Fortis che ci prova Con questo cross dalla destra Che arriva sul secondo palo A Costa Che a pochi metri dalla porta Non riesce ad inquadrare lo specchio Fortis che riesce a trovare Anche il gol della bandiera Palla messa in mezzo Giusti allontano con i pugni Il controcross che arriva ancora sul costo Sul secondo palo Questa volta l'attaccante bianco-verde Non sbaglia 4-1 termina Così la prima giornata del 2024 La seconda del girone di ritorno A favore del Siena Siena che rimane imbattuto E Cavalga Ancora verso il sogno Serie D Risultato finale al Verdi Siena 4 Fortis 9-1-0 1 1 2 3 3 4 4